Iniziamo a vedere come va la gara, chi conquista i primi punti, chi parte col piede giusto, dai. Iniziamo allora con la mia squadra, con la squadra di Turi. Facciamo entrare Angela. Ecco Angela. E poi è il capogruppo della squadra. Buongiorno Angela. Signora Angela è un avvocato come il nostro condominio. Con la lettera P. P di Palermo, la vedo anche scritta qua. La regione da cui, secondo la tradizione, provenivano i re magi. I re magi arrivano dalla... Piemonte. No, andiamo. Dalla Palestina. Scusi, per il motivo è giusto. Arrivano dalla... Piemonte. No, andiamo. Dalla Palestina. Dalla Palestina. E questa, non c'è dubbio, c'è dal Piemonte... Ma è umano, cioè... Eh dai, scusa, la Palestina è la... Grazie a tutti.